Ciao, molti uomini pensano che l'unico modo per creare tensione sessuale come una donna sia il tocco o l'escalation fisica in generale. Oggi vediamo tre modi per creare un'atmosfera più sessuale fra di voi senza bisogno di usare il tatto. Io sono Gio Di Lorenzo e questo è Seduzione Attrazione. Prima di cominciare ti ricordo una cosa importante. Se ti interessa la seduzione ho anche un canale Telegram chiamato Gio Di Lorenzo dove condivido informazioni che su questa piattaforma dove mi vedi ora non posso darti. Quindi vieni a trovarmi anche lì, trovi il link in descrizione. La prima cosa che tu vuoi capire è che non vuoi rompere quello che lei contact per primo. Quindi di conseguenza questo è quello che tu vuoi fare correttamente, continuare a guardare la ragazza negli occhi e la cosa scorretta da fare invece la guardi e abbassi lo sguardo per primo mentre stai parlando. Infatti nella situazione ideale sarà lei che deve abbassare lo sguardo per prima. La seconda cosa che tu vuoi fare è semplicemente rallentare quella che è la tua voce. Quindi vediamo prima come non farlo e poi come farlo. Che cosa hai fatto in questo weekend, Amanda? Ho lavorato, sono io da giocare a tennis. Ah ok, cool. Quando ero bambino mio padre voleva che giochessi a tennis ma io volevo giocare a palloni come tutti i bambini a 10 anni. Questo è come non farla. Ci ho messo anche quel pizzico di balbettio solo per voi. Mostriamo adesso invece cosa tu dovresti fare. Quindi cosa hai fatto, Amanda? Ho lavorato e sono andato a giocare a tennis. Ok, quando ero ragazzino mio padre voleva che giocassi a tennis ma come tutti i bambini a 10 anni volevo giocare a pallone. Semplicemente rallentando quello che è il tuo tono vocale o meglio quella che è la velocità della tua parlata riesci a creare una situazione che sulla ragazza giusta e nelle condizioni giuste crea un'atmosfera che sia migliore. L'ultima cosa che vuoi considerare per raggiungere un altro livello, se così lo vuoi considerare, è quella di inserire delle pause in quello che dici. Quindi da una parte abbiamo qualcosa del tipo, ah ok, quindi quando io ero ragazzino mio padre voleva che giocassi a tennis ma io volevo giocare a palloni come tutti i bambini a 10 anni. Non esattamente l'ideale, mentre quello che tu vuoi fare sarebbe più qualcosa del tipo, ah ok, quando avevo 12 anni mio padre voleva che giocassi a tennis ma come tutti i bambini volevo giocare a pallone. E così aggiungi questo terzo strato fondamentalmente. E con oggi abbiamo finito e ci vediamo nel prossimo video. Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link qui a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.